Io voglio spiegare come nasce l'idea di questa puntata, anche se un po' me ne vergogno perché ho proposto io a Flavio oggi di parlare di un grande personaggio storico italiano che è Cosimo de' Medici, ma allora io voglio proprio spiegarvi da cosa è nata. Qualche tempo fa stavo rivedendo i diari del liceo, sapete un po' mi stavo tornando con le memorie, momento nostalgia al passato, allora con i compagni di banco avevamo questa abitudine di scrivere sulle pagine del diario potenziali in maniera ironica, satirica, scritte sui muri che potevano apparire nell'antica Roma, nel medioevo, cioè le scritte che ora fanno i writer, gli huligan di odio contro un personaggio, un politico eccetera, come sarebbero state se i writer ci fossero stati a scrivere sui muri contro Giulio Cesare? Sì, ci divertivamo un po', però al liceo classico che devi fare? O fai questo, o fai... e quindi era questo il nostro divertimento. Nello sfogliare le pagine, vedi a un certo punto delle mie scritte finte sui muri, piene di livore, contro questo Cosimo de' Medici, definito con epiteti che ora non riassumo. Perché questo? Da cosa nasce? Nasce proprio dal mio amore, già all'epoca per i pirati. Perché la prof di storia toscana, quindi diciamo un po' di parte in questo senso, ci aveva raccontato la storia di questo Cosimo de' Medici come un efficace cacciatore di pirati. Allora io già amante di pirati, mi ero incazzato questo Cosimo de' Medici, avevo scritto sul diario Cosimo sei un ladro, ladruna... Tipo, Cosimo infame per te solo le lame, una cosa del genere. Esattamente, capito? Però ho detto, ripeschiamo un attimo la storia, facciamo pace con questo livore che provai, ripeschiamo la storia di Cosimo de' Medici e soprattutto del suo sogno, Flavio, che anche tu hai già avuto modo di studiare, di una città antipirata, quindi una sorta di antinassau, di antilibertalia. Cosimo de' Medici, ladro, maledetto... no, vabbè, non dobbiamo adesso poi ci fanno causa anche gli eredi, quindi Flavio, che dici? Iniziamo a parlare di questo personaggio e vediamo se lo odiamo ancora. Sì, ma soprattutto vediamo se era più efferato lui o Barbarossa, insomma, decidiamo poi alla fine. Allora altre provocazioni, io direi prima di tutto di calmarci facendo partire la bellissima sigla. Che poi uno dice, eravamo partiti bene, eravamo partiti il progetto editoriale, Daniel Defoe, adesso prendiamo roba dalle pagine del mio diario di scuola, ma io mi chiedo dove sta andando a parare? Non lo so, non lo so dove andremo a parare. Quello che so però è che abbiamo parlato un sacco di volte ormai di pirati barbareschi, che erano i grandi assenti delle prime stagioni, se ti ricordi. Invece ormai sappiamo bene, dopo aver affrontato diverse storie dei barbareschi, quanto il Mediterraneo è stato un mare sanguinoso, sconvolto proprio dalle battaglie tra i corsari barbareschi e varie flotte europee messe insieme alla buona, certe volte un po' per contrastare questa minaccia talassica. Quanto queste incursioni fossero nel corso di varie fasi storiche un sinonimo di terrore, di violenza, ne abbiamo parlato a profusione e abbiamo parlato anche molto di quanto le popolazioni delle coste tieremiche, ecco perché oggi andiamo a parlare un po' di quelle località lì, fossero uno dei bersagli prediletti di questo tipo di azioni e che questo tipo di razzie ha proprio fatto presa nel folklore, nella cultura pop dell'epoca che si è evoluta, nelle leggende, nei miti, insomma, anche andando a ingigantire molto spesso le situazioni, insomma, se certe volte i pirati arrivavano e ammazzavano 10 persone, quelli diventavano 100.000 nel corso di un paio di generazioni, anche se poi in realtà sappiamo che i barbareschi molto spesso andavano su un'isola e la ripulivano, nel senso se portano via tutti. A proposito di isole, appunto, l'isola d'elba che è la nostra protagonista del giorno, direi, per via della sua posizione strategica e di alcuni porti sicuri, tra cui porto ferraio, che sarà appunto proprio il punto dove ci andiamo a concentrare oggi, è stata molto spesso al centro delle mire delle razzie piratesche. Pensa che, ne abbiamo anche parlato alla fine, Ayreddin, Barbarossa nel 1534, invase l'isola, distruggendo, tra l'altro, Rio e Grassera. E proprio dall'elba arrivano tantissime di quelle storie folcloristiche che ho citato prima, che vedono al centro, appunto, delle vicende, proprio i pirati barbareschi, e tutte le leggende collegate, insomma. Proprio all'elba si svolge, come hai detto, la vicenda di oggi e il protagonista che tu hai già citato, preso dalle pagine del tuo diario di scuola, ovvero Cosimo I de' Medici. Che odiamo, no, aspettiamo, aspettiamo. Prima di odiarlo, insomma, vediamo che cosa ha combinato. Ecco, adesso ti racconto un po' in breve, cercando di essere il più breve possibile, la storia di questo Cosimo I, che secondo me è molto importante per inquadrare il personaggio, l'epoca storica e anche un po' la geopolitica relativa del contesto. Cosimo I, anzitutto, era il rampollo del ramo cadetto della famiglia de' Medici. Lui era figlio del celebre Giovanni, detto delle bande nere, che era un condottiero militare. Sì, sì. E di Maria Salviati, che invece faceva parte del ramo principale della famiglia. E già con queste poche informazioni possiamo intuire che la famiglia de' Medici era molto grande e era anche un gran casino. Quello che dobbiamo tenere a mente è che all'interno di essa non si lesinavano pugnalate nella schiena. Infatti nel 1537 il duca di Firenze, che era Alessandro de' Medici, viene fatto fuori da suo cugino Lorenzo, che non era il magnifico, ovviamente era un altro. Era detto Lorenzino, anche Lorenzaccio, perché appunto non era proprio una personcina a modo. Infatti voleva soffiare la poltrona al cugino Alessandro, però la cosa non gli riesce e deve infatti fuggire da Firenze. A occupare il vuoto arriva quasi per caso, bisogna dire, proprio Cosimo I, che all'epoca aveva appena 17 anni. La cosa che giocava a suo favore nel prendere il trono del ducato di Firenze è il fatto che i suoi genitori con il loro matrimonio avevano di fatto unito la casata principale e quella cadetta. Roba da aristocratici mi viene da dire. Per fortuna queste istituzioni desuete sono sparite dall'Europa e dall'Occidente. Forse no, vabbè andiamo avanti. Comunque l'altra cosa che giocava in favore di Cosimo era la sua giovane età, che lo rendeva manipolabile in teoria dal Consiglio dei 48, che era l'autorità che avrebbe effettualmente esercitato il potere lì a Firenze. E dico avrebbe perché in realtà Cosimo I, 17enne, appena prende il potere esautora il Consiglio e si investe dell'autorità assoluta. Devo dire che forse ha ereditato un po' lo spirito battagliero del padre. Sì. Restaura il potere dei medici, si affilia ufficialmente, o meglio rinnova l'affiliazione all'imperatore Carlo V, promuove poi tutta una serie di rinnovamenti in chiave militare della città e crea di fatto l'assetto che Firenze mantiene fino all'Unità d'Italia, insomma il riformista per eccellenza. Riesce poi a ottenere il titolo reale di Gran Duca, e questo grazie al supporto papale, quando mette a disposizione della Lega Santa la flotta di Firenze, e questo proprio in funzione anti-ottomana. Bisogna anche dire che fu un grande mecenate, capace di sfruttare pienamente il ruolo politico all'epoca sia dell'arte sia della scienza. Un furbacchio, cioè un politico... Sì, un politico a tutto tondo. Sì, a tutto tondo. A tutto tondo, però anche un politico che non regnò senza opposizione, però anche famoso per reprimere appunto nel sangue qualsiasi tipo di rivolta. Per dirne una, quando la famiglia Strozzi mise in piedi una rivolta in armi, radunando tutti gli esoli fiorentini scontenti, Cosimo si spinse fino a demolire la cattedrale di Arezzo sulla testa di Piero Strozzi e dei suoi uomini che si erano rifugiati all'interno di quelle sacre mura, insomma in barba all'asilo e tutte queste cose belle. Altro episodio rilevante, forse anche più rilevante in questo senso, avvenne negli anni Cinquanta, nel 1500, quando Siena decise di mollare l'impero, il Sacro Romano Impero, e quindi sganciarsi anche da Firenze, ovviamente, per affiliarsi alla Francia. Vicerè di Napoli tentò di sedare quella ribellione con scarsi risultati, quindi Cosimo si fece affidare l'incarico da Carlo V. Dopo aver sconfitto l'esercito senese sul campo, Cosimo passò ad assediare la città. E questo assedio durò mesi e mesi e mesi, senza tregua proprio, fino a quando Siena, del tutto stremata, dovette arrendersi. Diciamo, possiamo definirlo un gran successo, però bisogna anche vedere l'altra faccia della medaglia, perché nel frattempo la popolazione di Siena era diminuita, pensa da 60.000 persone a 6.000. Ecco, un altro po' e praticamente Siena spariva totalmente. Quindi, diciamo, che questo dà l'idea di cosa significava mettersi con suo Cosimo I all'epoca, era praticamente il cavaliere nero della famiglia dei Medici. Tutto questo terminò comunque con la sua abdicazione nel 1564 in favore di suo figlio Francesco, che bisogna dire aveva tutta un'altra idea di come dovesse funzionare la politica, però questo magari tema per un altro episodio. Francesco era l'unico rimasto vivo di 11 fratelli e sorelle, tutti colpiti da diverse malattie, in particolare la malaria che si portò via anche la moglie di Cosimo, che era Eleonora di Toledo, naturalmente matrimonio politico. È probabile che Cosimo fosse caduto lentamente in depressione proprio a causa di tutti questi lutti familiari. Morì dieci anni dopo, a 55 anni, reso già disabile a causa di un ictus. Quindi io, per fare una somma, direi una vita breve, intensa e crudele, e forse anche molto più di quella di tanti pirati. Tra le tante eredità di Cosimo, comunque c'è la costruzione di nuove città fortificate, come Sasso di Simone, Terra del Sole, che era Eliopoli all'epoca, e Cosmopoli, l'odierna Portoferraio, di cui parliamo bene in questo episodio. Tutto giustissimo, tra l'altro un Flavio in chiave barbero oggi, perché sia per le descrizioni, davvero complimenti, complimenti per il riassunto che hai fatto. E io... Dai, non sono andato nei dettagli delle spade sguainate, delle carni caditate. Però io parto proprio da Cosimo de' Medici e da Portoferraio, perché è da lì, da loro, che partì una risposta sonora contro la pirateria nel Tirreno. E quello di cui parleremo oggi è proprio Cosmopoli e l'ordine dei Cavalieri di Santo Stefano. Chi sono questi Cavalieri di Santo Stefano? Sull'ispirazione dei Cavalieri di Malta nasce nel 1561 quest'ordine ideato dal nostro Cosimo de' Medici, che fra i vari nemici che aveva, che Flavio ci ha descritto e ci ha descritto anche come egli trattava i suoi nemici, fra i vari nemici Cosimo aveva anche i pirati. E quindi lui, appunto, sull'ispirazione dei Cavalieri di Malta decide di fondare l'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano. Core business di quest'ordine è proprio prendere a calci nel sedere i pirati ottomani. Proprio lo statuto era questo. E anche, perché no, vincere questo braccio di ferro fra potenze che nel Mediterraneo avevano molti, molti interessi. Diciamo che di tutto questo la crociata a tema religioso era un elemento parziale di quest'ordine, secondo me. Secondo me, poi magari erano animati da un grande spirito. Però c'erano anche tanti interessi in questa caccia ai pirati dal Mediterraneo. Citando Jacopo Riguccio Galluzzi, storico italiano del Settecento e riordinatore dell'archivio della famiglia Medici, la visita fatta alle sue marine aveva fatto conoscere a Cosimo l'importanza e la necessità di guardarle, cioè di guardarle, di proteggere, no? Di guardarle con gli occhi. Di guardarle dalle incursioni dei turchi. Restò convinto dell'utilità di una milizia che occupandosi unicamente del mare allontanasse dalle coste toscane i pirati. Troppo dispendioso trovava il mantenimento di sei galere e il re Filippo di Spagna, che tra l'altro vi dico io rivedremo protagonista a breve, non si dimostrava disposto a contribuire per le medesime. Immaginò pertanto di erigire un ordine militare con cui si conseguisse lo stesso intento senza risentirne l'aggravio. Profittò della benevolenza del Papa per ritrarne un sussidio dai patrimoni ecclesiastici. Interessò la vanità dei ricchi, il politico che diceva Flavio, con l'attribuire loro una marca d'onore e dei privilegi. Contribuì egli stesso del proprio a queste opere e decorò di nuove facoltà e prerogative lì stessa sua sovranità. Pensò con questo atto di eternare la memoria delle sue vittorie di Monte Murlo e Scannagallo, le quali successero ambedue nel secondo giorno di agosto. E siccome in tal giorno, quindi il 2 di agosto, il martirologio romano indica la morte di Santo Stefano, parapa e martire, perciò quel santo fu invocato per protettore dell'ordine. Quindi Cosimo crea un ordine che, poiché lui era abituato a vincere il 2 agosto, prende il nome dal santo del 2 agosto. Quali sono queste due vittorie che cita questo storico? Sono due vittorie avvenute il 2 agosto 1537 a Monte Murlo contro i Fiorentini e appunto il 2 agosto 1554 a Scannagallo contro i Senesi. Ora, Cosimo aveva quindi in mente di creare un ordine e di ottenere tutto quanto potesse foraggiarne la creazione, dargli autorizzazione, aveva in mente di creare quest'ordine per estirpare la pirateria. E aveva provato a fondarlo anche prima del 1561, ma senza riuscirci. Fu l'ascesa di un pontefice amico dei Medici, Papa Pio IV, tutti questi intrallazzi che c'erano all'epoca, che oggi invece siamo tutti onesti e trasparenti, che agevolò la creazione di tale ordine e la nomina di Cosimo I come gran maestro. Nel 1561 Cosimo decide quindi di tornare a provare a lavorare alla realizzazione di questo suo sogno di cavalieri e navi che cacciassero i pirati. E appunto, proprio grazie a Pio IV e alla sua bolla pontificia, quest'ordine viene approvato. O meglio, come vanno esattamente le cose? Nel primo ottobre del 1561 abbiamo la emanazione del dilectofilio e poi abbiamo la bolla pontificia nel 1562, il primo febbraio, i isque pro religionis propagazione ed è questo l'anno in cui l'ordine venne consacrato. Ne viene decretata la costituzione perpetuo erigimus ac instituimus e approvato lo statuto e Cosimo e tutti i suoi discendenti vengono nominati gran maestro di quest'ordine. Quindi il primo gran maestro fu Cosimo e poi i suoi successori quindi i granduchi di Toscana di Casa Medici e poi di Asburgo Lorena. Il passaggio del gran magistero ai Lorena confermato da Papa Benedetto XIV nel 1748. Quindi anche un titolo passato di mano fra varie casate caro Flavio questo titolo onorifico di cacciatore di pirati praticamente. Sì di gran maestro cacciatore di pirati alla fine e infatti mi chiedevo se in realtà con la tua con tutta la tua storia del diario di scuola eccetera non stessi in realtà coprendo il fatto che vuoi lanciare una nuova teoria del complotto in cui c'è il gran maestro cacciatore di pirati dei Cavalieri di Santo Stefano che ce l'ha con noi particolarmente. Esattamente forse nella nostra allora diventerà il nostro nemico giurato per fomentare i nostri delinei. Nei temi della taverna assolutamente direi assolutamente possiamo tenerlo a mente questo tema è ottimo averlo lanciato però quando dico gran maestro effettivamente la mente subito va in alcune direzioni precise ma torniamo al nostro Cosimo che dopo aver per tanti anni provato a diventare gran maestro dell'ordine ci riesce e la mattina del 15 marzo 1562 il pontefice Pio IV riesce a far arrivare il suo inviato direttamente al cospetto di Cosimo e viene presentato al duca in forma solenne la bolla delle concessioni e gli statuti approvati quindi lui viene insegnito della divisa del nuovo ordine e assume appunto questa carica che abbiamo detto prima. L'ordine viene approvato come una istituzione religiosa e militare attenzione con carattere sovra regionale è importante cioè poteva diciamo agire in maniera non dico indiscriminata però insomma aveva una grande autorità sul mare è stabilito che i nostri cavalieri non possano intromettersi né ad andare ad imprese di guerra che fanno i cristiani l'un contro l'altro però ovviamente se c'è qualche nave battente bandiera con la mezzaluna lì dobbiamo andare e devastare ora non è scritto così letteralmente ma ve lo dico io in conformità a questi presupposti il sacro ordine militare di Santo Stefano viene approvato ha la sua sede accademica e religiosa in piazza dei cavalieri in Pisa e la base navale è la nuova e ben fortificata città portuale di Livorno tra l'altro proprio a Livorno caro Flavio troneggia ancora oggi un monumento che è possibile che potete anche andare a vedere se volete fare turismo piratesco il monumento dei quattro mori che celebra le vittorie di Ferdinando de' Medici figlio di Cosimo contro i barbareschi Ferdinando fece erigere questo monumento in onore dei cavalieri di Santo Stefano o meglio in suo onore e mostra questi quattro pirati resi captivi cioè sconfitti umiliati imprigionati quindi base navale dell'ordine è Livorno e in futuro Livorno avrebbe omaggiato le vittorie dei medici sui pirati anche con questa statua ma il nostro Cosimo diciamola tutta non voleva far la sua base né a Pisa né a Livorno lui aveva in mente un'altra base strategica per il suo ordine una città che lui vedeva questa anti-Nassau questa anti-Libertalia una città dove i pirati non erano benvenuti chiamata Cosmopoli cosa ci puoi dire Flavio? infatti proprio la prima sede di questo ordine che abbiamo scoperto che è il nemico di Radio Pirata venne stabilita proprio in questa città di Cosmopoli presso l'ex convento di San Salvatore però andiamo a capire bene cos'era questa Cosmopoli innanzitutto il nome già è molto affascinante altisonante allora stiamo parlando dell'odierna Portoferraio nel 1548 infatti Cosimo de' Medici riceve dall'imperatore Carlo V proprio l'incarico di difendere l'isola d'Elba e in realtà in funzione di protezione rispetto ai commerci nel Martireno questo incarico per lui diventa una missione proprio vissuta di cuore non vedeva l'ora ne andammi a qualcun altro lui capisce però la fondamentale importanza strategica proprio dell'isola d'Elba importanza strategica sia dal punto di vista commerciale ma anche dal punto di vista militare vedendo la sua biografia abbiamo capito quanto Cosimo fosse indipendentista risoluto e soprattutto un abile stratega l'Elba era un punto focale per il controllo di tutto il terreno e Cosimo a questo punto ha un sogno quello di fondare una città che diventa il primo baluardo per la difesa la sopravvivenza e la crescita dell'Elba una città di nome Cosmopoli sì l'Elba dal suo punto di vista era praticamente la malta del terreno Cosmopoli era una piazzaforte cinquecentesca ovviamente costruita sui resti della fabricia romana e della ferraia medievale e Cosimo la pensava veramente in grande per raggiungere questo sogno impiegò tutte le sue migliori risorse economiche e tecniche a disposizione che erano piuttosto ingenti e appena ricevuta l'autorizzazione dall'imperatore stabilisce il forte provvisorio quello che sarà la base per la costruzione di Cosmopoli fa arrivare sull'isola ovviamente soldati però fa arrivare soprattutto muratori steratori fa arrivare un architetto molto molto in vista Giovanni Battista Bellucci e poi anche Giovanni Camerini vennero progettate le palizzate i trapieni le mura le cortine Cosmopoli insomma in breve tempo diventa uno dei porti più sicuri del Mediterraneo gli elementi chiave della città sono il forte stella la torre della linguella il forte falcone tutti connessi da un'imponente cinta muraria in modo da chiudere la città e creare un unico possente blocco difensivo e allora perché questa Cosmopoli questa questa roccaforte così potente non è diventata poi effettivamente la base dei cavalieri di Santo Stefano perché come Danilo come ci hai detto tu in realtà quella stava a Livorno ecco la realtà è che rispetto all'esigenza militare alla strategia alla funzionalità al sogno si mette sempre in mezzo la politica ecco si crearono infatti dei contrasti con gli spagnoli e i loro possedimenti perché ricordiamo che in Toscana per volontà di Filippo II di Spagna era stato creato un governo chiamato Stato dei Presidi e Cosimo quindi non riuscì a implementare questa base perché Cosimo era scaltro e voleva il controllo del Tirreno però insomma la Spagna non era che era proprio lontanissima da lì e sicuramente era interessata anche lei a questa egemonia effettivamente il sogno di Cosimo di mettere mani sull'elba e creare una roccaforte del genere facevano proprio paura perché noi sappiamo bene studiando la storia dei Barbarischi quanto Malta nel Mediterraneo fosse diventata non solo un simbolo ma proprio un punto strategico per il controllo dell'intero mare posto così piccolo se ci pensi beh l'elba nel Tirreno poteva essere la stessa cosa e se a Malta c'era un ordine dei Cavalieri di San Giovanni che un ordine cavalleresco religioso che aveva un peso politico molto importante all'elba i Cavalieri di Santo Stefano potevano diventare esattamente la stessa cosa quindi insomma si crearono dei contrasti politici soprattutto con gli Spagnoli e i loro possedimenti e i Cavalieri di Santo Stefano dovettero trovare base a Livorno invece che all'elba però l'elba e Cosmopoli rimase comunque un baluardo contro le flotte nemiche che girovagavano in quel tratto di mare però la prima sede dell'ordine fu ufficialmente Porto Ferraio insomma Cosmopoli prima di passare a Pisa con la marina a distanza a Livorno e abbiamo in realtà ancora Echi dell'esistenza di Cosmopoli di questo grande sogno di Cosimo I perché la piazza dei Cavalieri prende proprio il nome dell'ordine di Santo Stefano e anche la la chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri è sempre lì a Porto Ferraio ma Flavio perdonami non ti sembra io ho questa impressione voglio sapere cosa ne pensi tu che ovviamente Cosimo era un grande visionario magari animato da nobili intenti di estirpare la pirateria che saccheggiava rapiva ma un po' magari aveva anche un ego smisurato viste le sue ambizioni non ti sembra che Cosmopoli suoni come Cosimopoli e magari nella sua testa c'era qualcosa tipo la mia città guarda che non è non è proprio impossibile complotto complotto del gran maestro e quindi sappiamo anche dov'è la base dei nostri nemici insomma se andiamo a fare un viaggio all'elba rischiamo grosso allora infatti ora cosa facciamo vediamo le caratteristiche dei cacciatori di pirati di Cosimo dei cavalieri e anche per permettere ai nostri ascoltatori di riconoscerne i vessilli gli standardi eccetera in modo tale state attenti perché noi radio pirata siamo ancora un target attivo per loro quindi attenzione i cavalieri di Cosimo chi erano nobili militari cavalieri di giustizia serventi e fratelli d'armi per essere ammessi dovevano dimostrare quattro gradi di nobilità paterna e materna cioè mica ti assumevano così solo perché volevi andare a cacciare i pirati vediamo come è descritto l'emblema dell'ordine è una croce rossa di Malta così la riconoscete se la vedete scappate croce rossa di Malta bordata di oro in campo bianco accantonata da gigli in oro originariamente l'ordine è suddiviso in due categorie militi e sacerdoti e ieri come oggi l'accesso era riservato solo a coloro appunto che potevano dimostrare di possedere questi quattro gradi di nobiltà che abbiamo detto i cavalieri erano soggetti a tre voti di castità carità ai tre voti quindi castità carità e obbedienza dai quali potevano essere dispensati dal gran maestro se andavi dal gran maestro a dire mi dispensa da questo voto qui lui poteva ma non sappiamo quale voto venisse dispensato più sovente diciamo comunque le unità a portoferraio venivano comunque costruite e riparate questo è importante portoferraio comunque centro nevralgico del sogno di cosimo nell'arsenale delle galeazze venivano infatti costruite grosse galere dette appunto galeazze che i cavalieri usavano per difendere le coste dalle incursioni piratesche e fare le loro sortite la galera peraltro è un capolavoro di tecnologia navale perché è veloce perché è efficace perché è ben armata quindi sa tenere testa alle unità dei pirati ed era potente all'epoca quanto le contemporanee unità genovesi e veneziane da battaglia e a breve parleremo anche nel dettaglio delle galere perché sapete che ci piace approfondire anche il tema delle navi sulle imprese però di costoro dei santo stefaniani abbiamo diverse fonti storiche sicuramente fra le più interessanti c'è quella di Ignazio Fabbroni voi dite ma chi è questo ve lo dico io era un nobile pistoiese un viaggiatore e un disegnatore quindi ci ha regalato delle fotografie fra virgolette dell'epoca diciamo così diciamo che lui nelle sue esperienze a bordo faceva le sue personalissime stories Instagram perché disegnava tutto quello che vedeva ora a parte le stupidaggini noi sappiamo che molti viaggiatori e navigatori amavano mettere su carta quello che vedevano in forma di diario di illustrazioni quindi noi abbiamo molte testimonianze delle varie peregrinazioni grazie anche a persone proprio come Fabbroni Fabbroni fra il 1664 e il 1687 realizzò una serie di disegni che sono una testimonianza di com'era la vita a bordo delle galere dell'ordine di questi cacciatori di pirati ma anche di com'era la vita all'epoca in generale per un lupo di mare e i costumi dei popoli che vivevano nei luoghi dove lui approdava le azioni militari italassiche questi disegni di questo viaggiatore pistoiese sono oggi raccolti e conservati nella biblioteca nazionale centrale di Firenze però non andate lì a fare domande che poi dicono ma perché lei è radio pirata io sono un pirata non fatevi scoprire che fate ricerche sul Fabbroni sono 842 disegni 23 riguardano l'isola d'Elba e Portoferraio ne vengono disegnate rappresentate le vie le finestre aperte con le donne alla finestra appunto che cuciono recitano il rosario gli animali domestici dell'epoca e da cortile i pescatori che riparano le reti c'è anche la veduta del lazzareto che dimostra come facessero passare in quarantena la quarantena agli equipaggi delle navi provenienti da luoghi appunto che venivano considerati pericolosi e poi Fabbroni disegna l'arsenale delle galeazze è un luogo in cui troviamo schiavi turchi al lavoro intenti a un lavoro che potrebbe essere segare un tronco una botte e praticamente è un'istantanea dell'epoca e dei lavori dell'epoca e nell'arsenale si vedono anche le unità e quindi le tecniche gli strumenti dell'epoca e di questi natanti usati dai cavalieri il lavoro dell'arsenale che era anche tirare le barche in secco e così via quindi assolutamente è come immergervi davvero nell'attività nella vita nell'esperienza di quest'ordine che comunque ci interessa anche se erano nostri nemici dell'epoca bisogna studiare il nemico bisogna studiare il nemico esatto ma andiamo a vedere le galere dei cavalieri di Santo Stefano questa unità come era fatta scafo lungo fino a 50 metri con larghezza di 6-7 metri e quindi in grado di manovre molto agili 30 lunghi remi per bordo erano in pratica al sistema propulsivo con banchi di voga di 6 o 7 galeotti le lunghe vele latine avevano questi colori a bande giallo arancione e azzurro era un tipo di imbarcazione che sfrutta il vento al meglio con velatura da crociera ma con il vento a favore può avere davvero grandi impennate di velocità unità è armata di un grosso cannone prodiero cioè prodiero cosa vuol dire che ha prua davanti e due cannoni petrieri cosa sono i cannoni petrieri quelli che come proiettili hanno lo capirete le pietre quindi fa anche male diciamo l'ordine di Santo Stefano e anche altri pezzi minori gli smerigli poi c'è lo sperone prodiero perché non lo vuoi lo scafo nemico non lo vuoi agganciare non lo vuoi abbordare e quindi c'è anche lo sperone e poi l'equipaggio che fa gli dai soli remi no gli dai fucili e gli dai le grosse spade perché devono essere pronti anche all'arma bianca più volte queste unità Flavio sono servite anche come nave da trasporto però perché erano navi veloci sicure diciamo e quindi re principi cardinali hanno usato come un uber le navi di quest'ordine pensa che buffo però se magari c'era un cardinale a bordo che bella questo viaggio questa crociera nel Tirreno e arrivava proprio allora la nave dei pirati in qualche battaglia tu che poi le hai viste le battaglie cioè non è che le hai viste le hai studiate le battaglie dei santostefaniani pensa con un cardinale a bordo non sono così vecchio da averle viste no 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 però dai il fatto dei cardinali a bordo che fanno le crociere e poi arrivano i pirati questo mi fa pensare più alla Golden Age è bella come comunque comunque sì andiamo a vedere qualche impresa di questi cavalieri di santo Stefano che io non ho visto voglio tornare a sottolineare però abbiamo insomma insieme ricercato e conosciuto ecco allora anzitutto parliamo dal presupposto la missione principale la quest primaria dei cavalieri di santo Stefano era quella di liberare il Mediterraneo dai pirati musulmani e liberare i cristiani dalla schiavitù ottomana però occorre precisare anche che l'ordine aveva pure incarichi di gestione dei beni del Gran Ducato e questo sappiamo che era uno degli incarichi anche molto spesso riservati agli ordini cavallerieschi ecco sempre per tornare in temi cari al complottismo sappiamo insomma tutte le storie dei templari eccetera comunque in Val di Chiana gran parte infatti delle fattorie del Gran Ducato dette case Leopoldine cioè quelle che ospitavano le famiglie dei contadini e anche le chiese erano tutte sotto la protezione appunto di questo ordine di santo Stefano amministraveno anche eh sì infatti infatti vedi però questo ordine di santo Stefano diventa veramente una cosa interessante perché era una loro di radio va bene andiamo avanti comunque ancora oggi in alcuni di questi edifici storici possiamo effettivamente vedere la croce dell'ordine di santo Stefano però andiamo a imprese più marinaresche battagliere meno amministrative perché ecco a noi ci piace a noi piace sicuramente di più e poi Danilo mi riserva sempre anche l'onere di raccontare le storie più truculente comunque le campagne militari dell'ordine di santo Stefano possiamo riassumerle in tre fasi la prima quella intorno al 1570 vede l'ordine schierato a fianco della Spagna contro gli ottomani con la difesa di Malta del 1565 la battaglia di Lepanto nel 1571 in cui partecipa l'ordine con 12 galee e una delle sue imprese più importanti è la presa di Bona in Algeria però a battaglia di Lepanto abbiamo detto che ci debicheremo insomma una puntata a sé la seconda fase è consoli turchi e consoli barbareschi lungo le coste del Mediterraneo si registrano lì incursioni sulle isole dell'Egeo all'epoca tenute dai turchi e le campagne poi in Dalmazia e in Negroponte e la guerra di Corfu poi una terza fase attorno al 1640 però con una diminuzione dell'attività militare in favore di compiti più di rappresentanza e di difesa della costa e risale a questo periodo in particolare un aiuto ai veneziani consoli ottomani durante la guerra di Candia però andiamo a vedere qualche ecco questo è un po' il quadro generale andiamo a vedere qualche episodio più specifico e vediamo qualche storia un po' più efferata qualche storia nel 1565 quindi praticamente in concomitanza con la nascita dell'ordine una formazione navale di dieci galee della marina toscana e quindi dell'ordine anche di Santo Stefano partecipa alla difesa di Malta assediata all'epoca dai turchi stiamo parlando dell'evento storico noto come grande assedio con cui l'impero ottomano si era deciso a estirpare l'ordine ospedaliero di San Giovanni nel 1571 dodici galee tosco stefaniane chiamiamole così sì bel nome partecipano alla battaglia di Lepanto conquistando la fiamma di combattimento della reale di Ali Pasha capo supremo dell'armata di Selim secondo del sultan quindi insomma l'impresa non da poco eh esatto nel 1574 vi è poi uno sconso nelle acque di Goletta tra le garee di Santo Stefano e la squadra di Ulu Ali un pirata in realtà calabrese però poi convertito dopo la cattura dei turchi insomma sulla scia di alcuni altri personaggi e ne parleremo allora ne parleremo nel 1587 San è al trono poi Granducale Ferdinando I per le imprese compiute dai cavalieri di Santo Stefano durante il suo regno tra il 1587 e il 1609 viene lui soprannominato il domatore dei Mori termine che assieme alla sua statua ancora presente al Livorno non rende tutto insomma il tutto un po' politicamente corretto forse no direi che non è però insomma aspettiamo forse la butteremo giù noi erigendo un monumento a un pirata non so un Jolly Roger di bronzo gigante esatto lo sostituiamo nel 1587 poi con una bolla papale e sulla sollecitazione del Granducato di Toscana l'ordine di Santo Stefano subentra nei beni del soppresso ordine di San Giacomo d'Alto Pasch detto anche ordine dei Cavalieri del Tao un ordine religioso cavalleresco nato intorno al 1050 insomma un bel po' più anziano e amministravano sempre sì diciamo che vanno a conquistare sia per mare sia per banca eh mettono mano scalata bancaria all'ordine del Dital se poi ci spostiamo un po' più avanti però torniamo in mare quando nel 1719 due galee dell'ordine di Santo Stefano catturano tre navi corsare avventurate lungo le coste orientali della Sardegna e questo è l'ultimo grande sconso navale a cui partecipano le navi dell'ordine appunto di Santo Stefano ma erano dei caraibici che si sono persi che 1719 c'era qualcuno un po' ubriaco la Sardegna chissà forse andavano dalle tue parti lì in Liguria esatto comunque il periodo di attività militare dei cavalieri di Santo Stefano si svolge abbiamo detto fino alla prima metà del Settecento quando la casata dei Medici scompare con Gian Gastone dei Medici nel 1737 volendo fine della dinastia del Granducato però ormai abbiamo capito abbiamo scoperto che in realtà l'ordine dei cavalieri di Santo Stefano non è sparito ma si è nascosto e dalle ombre minaccia di tutti i pirati che si aggirano ancora come noi il Granduca Pietro Leopoldo alla fine del Settecento promuove una riorganizzazione dei cavalieri di Santo Stefano elimina la componente militaresca e ricicla un po' tutto quanto come l'istituto per la preparazione della classe dirigente toscana un primo tentativo di soppressione arriva in epoca di soppressione totale insomma arriva in epoca napoleonica nel 9 aprile 1809 però Ferdinando III di Lorena lo ripristina quasi subito il 1817 con alcune modifiche nello statuto viene poi alla fine completamente smantellato con la fine della sovranità della casa Asburgo-Lorena sulla Toscana nel 1859 un dettaglio interessante è che nella sana del consiglio del municipio di Portoferraio l'antica Cosmopoli un grande quadro di Carlo Morelli ritrae il Granduca Leopoldo d'Asburgo-Lorena proprio con le insegne dell'ordine dei Cavalieri di Santo Stefano questi indizi che in realtà qualcosa si muove nelle ombre comunque nel 1859 la Toscana viene unificata infatti al regno di Sardegna e l'ordine viene soppresso però questa soppressione dell'ordine va a tirare fuori cose interessanti perché l'ordine viene soppresso da un punto di vista patrimoniale e effettivo però non da un punto di vista formale perché l'ordine è di per sé era fondato in perpetuo perché fondato da un Papa e quindi sopprimibile solamente con una bolla papale e quindi l'ordine rimane operante e diviene un titolo onorifico nei locali della sede a Pisa pare che ancora oggi vi siano cimeli di battaglie talassiche dei Cavalieri di Santo Stefano una settantina di bandiere sottratte alle navi ottomane e magrebine catturate o affondate in combattimento insomma i nostalgici possiamo dire i nostalgici quello che mi viene da immaginare invece ecco un po' alla Dan Brown questo ordine che si riunisce nella sede di Pisa nell'antica sede di Pisa vestiti con i drappi dell'ordine di Santo Stefano che complottano contro l'ario pirata e i suoi accoliti che dici no ma guarda questa sfumatura mentre preparavamo la puntata non ce l'avevo ma raccontandola ah però soppresso ma ancora vivo però amministrava i beni viene proprio in mente Dan Brown in chiave però comica cioè che provano a estirpare noi cioè che ci cercano dei templari con l'elmo e ci vogliono ammazzare potrebbe immagini immagini arriva in una di queste riunioni un po' inconcludenti perché in realtà non hanno nulla da complottare cioè non hanno obiettivi arriva uno sbattendo la porta finalmente abbiamo un nemico radio pirata esatto esatto perché ogni riunione era anche quest'anno niente pirati nel tirreno signore donna e invece ci siamo siamo tornati venite a prenderci no comunque oggi abbiamo raccontato la storia di Cosimo e Cosmopoli l'anti libertalia io chiedo ora voi nei commenti confermate che facevo bene con spirito anarchico e ribelle da ragazzino nel diario a scrivere Cosimo più è perché ce l'hanno decapitato a fil di spada ma bella morte vedremo vedremo chi vincerà stavolta libero johnny libero oh libero johnny libero for the world is long and the winds don't blow and it's time for us to libero procreale